Ciao, oggi ripassiamo come montare gli attacchi sulla nostra tavola. Prendiamo il nostro attacco anteriore, il disco, e semplicemente un cacciavite a stella. Consiglio inizialmente di centrare gli attacchi seguendo le indicazioni del produttore. Posiziono il disco in modo da poter aggiustare l'attacco nel senso longitudinale. Avvito pochissimo le viti per permettere l'attacco di ruotare per scegliere l'angolo. Io seleziono un più 24 gradi tipico della forward stance. Nei miei passati video trovi la famosa duck stance e l'alpine stance. Avvito senza stringere, seguendo in senso orario. Stesso procedimento per l'attacco posteriore. Ricordati di posizionare il disco in modo da centrare successivamente lo scarpone. contro il tattacco non devono uscire fuori. Anche in questo caso non stringo le viti per permettere all'attacco di ruotare. Per il piede posteriore seleziono un più 12 gradi. Ora procedo a stringere ma senza utilizzare la forza. Ora posso definitivamente stringere l'attacco anteriore per poi passare a quello posteriore. Ricordati di non utilizzare nessun collante per fissare le viti. E infine mettiamo un bel pad anti scivolo. Se non ti senti sicuro di fare questo procedimento, affidati ai negozi specializzati. I miei amici, Ga e Marisa ad esempio, ti preparano accuratamente la tua tavola compresa, manutenzione e sceninatura. Metto il link in descrizione. Ed ora ti lascio la vecchia mitica sigla di Snowboard for Dummies. Arriva il nonno! Ciao ragazzi! Today I'm going to show you! Grazie a tutti.